La sezione regionale di controllo della Corte dei Conti per la Calabria ha pronunciato il giudizio di parificazione del rendiconto generale della Regione Calabria, riferito all'esercizio 2023. I nodi più delicati sono gli stessi che avevano segnalato l'anno scorso. Non ci sono delle novità particolari in materia di sanità, anche se l'attività della gestione commissariale è sicuramente caratterizzata da un importante dinamismo. La differenza però rispetto all'anno scorso è che abbiamo dei dati che certificano uno scollamento tra attività della gestione commissariale e del management apicale della Regione con il management aziendale. Gli atti di indirizzo sono stati dati, però stenta ancora a esserci una realizzazione e quindi dei risultati che siano tangibili e evidenti. Io per mia natura sono soddisfatto quando concludo il lavoro che mi sono prefisso. Voglio fare questa Regione una Regione normale, una Regione che spende in maniera efficiente le risorse, che abbia una sanità più efficiente, pur in un contesto di sanità diffusamente degradata in tutta Italia. E quindi la Corte dei Conti ha evidenziato dei progressi, ma anche giustamente evidenziato delle ombre. Il mio compito è quello di non gioire per i progressi, ma di occuparmi delle ombre affinché l'anno prossimo la relazione della Corte dei Conti possa essere ancora migliore.